Il Manchester City di Pep Guardiola, a punteggio pieno nel gruppo F di Champions League, è al primo post nel ranking UEFA per club di questa stagione. Secondo posto per il Besiktas, autentica sorpresa di questa edizione, mentre all'ottavo posto figura lo Spartak Mosca di Massimo Carrera, davanti a giganti come Barcellona e Paris Paris Saint Germain. La prima italiana è la Roma, dodicesimo, con 8200 punti mentre Juventus e Napoli condividono la quindicesimo posizione insieme al CSKA. Questo il ranking UEFA 2017-2018. 1. Manchester City 11.528-2. Besiktas 10.683. Tottenham 10.528-4. Real Madrid 10.142-5. Liverpool 9.528-6. Chelsea 9.528-7. Manchester United 9.528-8. Spartak Mosca 9.209. Barcellona 9.142-10. Paris Saint Germain 8.866-11. Shakhtar Donetsk 8.760-12. Roma 8.213. Siviglia 8.142-14. Lipsia 7.571-15. C.S.K.A. Mosca 7.200. Juventus 7.200. Napoli 7.218. Sporting Lisbona 6.933-19 Porto 6.933-20 Celtic 6.700.